Nuove magliette, nuovi gadgets, tutto il merchandising di Mino, link in descrizione Parola di Mino Ben ritrovati! Sapete quanto ci ho messo a girare a farlo preciso una sola volta? Benvenuti funghetti in una nuova serie, nella seconda stagione di una vecchia serie ma la prendiamo come nuova Dal titolo Arbusto Anche Reddit bisogna usarlo sempre Tipo Osvaldo No, perché Osvaldo, visto che è una serie sui meme Tipo Osvaldo, nuovo meme Così A parte le cose ovvie, tipo il titolo della serie, bellissimo Devo ricordarvi una cosa Molti di voi che sono qua su YouTube non sanno cos'è questa serie Perché forse non seguono Twitch Ovviamente sempre sotto in descrizione il link per passare a Twitch E in pratica la serie si basa sui meme Che vengono messi da molti di voi che mi seguono soprattutto su Twitch Sul Reddit Il Reddit è anche quello sotto in descrizione Iscrivetevi, se siete bravi a fare meme Vi conviene partecipare Anche perché oggi parte ufficialmente il contest Per il meme più divertente, bello, simpatico Può essere messo su una maglia, una felpa nel mio shop, insomma E voi ovviamente vincete la maglietta Spero di essere stato chiaro Se ci sono domande scrivetemi sotto nei commenti Ci siamo dilungati anche troppo Andiamo ragazzi con la prima puntata della seconda stagione Di Arbusto Proclamo il meme di, noto come memede Se non lo sapete ragazzi Il meme di è o lunedì o il martedì Dipende quando lavoro e ci sono su Twitch E in quel giorno lì Faccio reaction a cose divertenti E appunto potrebbero nascere meme Quindi il lunedì o il martedì Siateci in live Andiamo al primo La leggenda narra che la tazza stia partecipando all'episodio di Meatbuster Nel giro del mondo in 80 giorni Corriere che porta la tazza di Mauro ben passando per l'Olanda Questa piccola manovra Ci costerà 51 anni Mauro a dicembre ha vinto il contest tra gli abbonati Ha vinto una tazza Una tazza di arbusto Il problema è che non si sa per quale motivo a Mauro non arrivava Sono andato a vedere, sono andato a sculciare Ed è in Olanda Non si sa per quale motivo Ma è in Olanda Abbiamo scoperto che Mauro abita in Olanda Meme del futuro Mino che aspetta i 33 anni First time Perché c'è Perché c'è Mnuzzo lì dietro Qual è Mnuzzo 3.2? Non lo so Perché io Mnuzzo mi farei crescere i capelli Perché ti vedo che ho capelli belli, lunghi, fluenti Pensaci, pensaci Mino con la CPU a 76 gradi Streama il mio PC appena lo accendo Ieri sera era arrivata a 90 gradi la CPU Salterà in aria breve Io che riparo il subreddit dopo che... Io che riparo il subreddit dopo aver dato il mod a Mino Cosa diavolo è successo? Il primo, primissimo meme Darking hai fatto un disegno bellissimo Potrebbe stare sulla maglia, attenzione The Rock che indossa la mia maglia Guardate lì come ci sta bene Continuate a fare cose così perché mi fanno impazzire Mino versione pirata Arrbusto 5 ore passate su Blender ma dettagli Potrebbe stare sulla maglietta, vediamo E ovviamente, eh, eh, vorrei anche vedere Mi fate schiantare perché avete fatto per ogni meme Cioè anche il come sta sulla maglietta E io non l'avevo chiesto Siete dei fottuti geni Bellissimo Negli angoli più remoti del castello di Mnuzzo The Last Arbusto Un arbusto rimarrà sempre nel castello di Mnuzzo Anche se la Redcraft non ci sarà più Sarà sempre un arbusto E vediamo ovviamente qua E certo come sta sulla maglietta Questo è Mattia, grazie mille Mattia Andiamo avanti Qui è Adur che fa una fanart tutta per te, Mino De Questa è presa dall'ultimo video di Kiria Su Camp Buddy E da lì è nato questo Che credo sia... Beh, allora Allora C'è dell'arte, ragazzi Allora Noto Gabuso Maruko Bisunto Noju Mino Triton E Suriv The Big The Theory Io ragazzi qua Superbo Qui c'è ragazzi Assurdo 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 Genio 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 The Rock che sponsorizza le calze di Pamplin Ok Una serie che andrà tantissimo su Netflix La Casa De Papel Ovviamente Con Mino Eccomi lì Upvote Tutta la vita Ciao I meet your Mino De Come ho conosciuto Mino De Noju con 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 Ponker Ok Con Mnuzzo e con Biz Qualcuno se vuole fare la serie animata di Minecraft Chiamatemi che Sponsorizzo Tappe involutive di Mnuzzo Allora Guardate il terzo Guardate il terzo Sì perché c'abbia il panciotto No La tappa evolutiva Involutiva di Mnuzzo Che secondo me è la migliore Secondo me è la numero 4 Partendo da sinistra Poi Ditemi anche voi sotto nei commenti Qual è il Mnuzzo migliore Attenzione perché c'è anche il contrario Questo ragazzi Potrebbe stare su una maglietta Io lo dico La butto lì The Baby Non so è come tipo dire The Lady Non so se conoscete la serie Trash Uscita tanti anni fa su YouTube Dove ti dirmi come Vi è venuto in mente Soprattutto di mettere Il mini-mino Non so se vedete il mini-mino Sopra il cappello ragazzi Guardate C'è la Disney ragazzi E c'è E c'è Thor E poi c'è Oh La X sulla montagna Non lo so Però Però Il salame Chi sono io per rifiutare un salame Dino D Google Quando è che Aggiorni il gioco Quello del dinosauro Che deve saltare gli arbusti Con la faccia di Mino Sai che questo Nuova marca di computer E beh E perché no Il mono de Anche qua con Le parole cambiate Edizione dell'imbroglio No No come No no Se ti pizzicano Finirai in manette No Io pago tutto Tasse pagate Non ci voglio credere Il bimbo che è arbusto E c'è No vabbè Questa finisce in copertina È bellissima questa Attenzione Ritorno nei meme Mignuzzo Non si tinge la barba Nojum La vuoi o no la fetta di culo Mignuzzo Si tinge o no quella barba Io accento Sub Parla tutta Grigia Mignuzzo il bianco Arrivi al games week In cavallo Col cavallo Sul cavallo Arrivi al games week Su un cavallo bianco Con la barba grigia Pensaci Pensaci Ovviamente Come i migliori film Della disney Ci sono i remake La spada Nel perimetro I remake Della spada Nella doccia Cose così Questo sono Altre storie Winnie D Qui col D Ragazzi Ok voglio altri meme Mettetelo ovunque Mettetelo ovunque Altri Remake Della disney Al posto di Lille Stitch Ci saranno Mino e Biz Guarda la faccia di Biz Com'è contento E non lo guardereste Un film così Signori Questo era l'ultimo Meme Ce ne sono alcuni Pochi Per il contest Ma Da oggi Mi raccomando Se volete partecipare E volete vedere Il vostro meme Finire Su una maglietta O su una tazza O su una felpa È il momento Di partecipare Avete delle idee In testa? Andate Sul reddit Svaldo vi guarda Ragazzi Attenti Dammini è tutto Di Nero Studio Ciao ragazzi Ciao ragazzi